CON 100 MILIONI Con 100 milioni ci hai comprato questa, eh? Non è stato difficile trovarti, Toretto. Non mi nascondevo. La settimana scorsa una banda superorganizzata ha sbaragliato un intero convoglio militare. Il mio ultimo colpo è stato a Rio. No, lo so che non sei stato tu. Ma mi aiuterai a distruggere la banda che lo ha fatto. E perché dovrei, Hobbs? Diamo la caccia a quel gruppo in 12 paesi. Questa è di una settimana fa. È impossibile. Mi serve il tuo aiuto, Dom. E quello del tuo team. Sento odore di olio per bambini. Continua così e sentirai odore di culo a strisce. Hai la migliore squadra del mondo di fronte a te. Dagli un motivo per restare. Il nostro obiettivo è Owen Shaw, ex maggiore delle forze speciali. Sono anni che mettono a segno colpi in Europa, ma con quelli più recenti sono stati promossi a un livello totalmente diverso. Lo voglio vivo. Ti sto offrendo l'opportunità di riunire la tua famiglia. Tu ci dai letti e noi ti portiamo show. E ci assolvi tutti, dal primo all'ultimo. Non posso promettervelo. Prendere o lasciare? Non hai scelta. Correre o morire. Correre o morire. Non sono né sbirri né spacciatori di droga. Mai visto niente di simile. Il codice secondo cui vivete è prevedibile. Nel nostro mestiere prevedibile significa vulnerabile. Io posso arrivare a voi e spezzarvi quando voglio. Ci credi ai fantasmi? La letti che conoscevamo non esiste più. Non si voltano le spalle alla famiglia. Anche se lei l'ha fatto. Ehi, ragazzi. Hanno un carro armato. Merda. Stiamo parlando di una guerra fra macchine. Non è il nostro campo. Non è il nostro campo. Non è il nostro campo. Non è il nostro campo.